e buonasera ci stiamo preparando per questa diretta spero vi siate procurati un bel bastone della scoppa qualsiasi cosa sia io l'ho già procurato quindi adesso ve lo faccio anche vedere e praticamente questo è il mio bastone eccolo qua io spero tanto che ne abbiate uno a casa deve essere di una misura media diciamo ne troppo grande ne troppo piccolo in modo tale che possiate avere un'apertura di braccia abbastanza più ampia delle vostre spalle quindi un bastoncino così piccolo non va bene quindi l'ideale sarebbe la scopa una scopa diciamo tendenzialmente naturale naturalmente al vostro tappetino questo non può mancare il vostro asciugamano il vostro cuscino se ne avete bisogno di tutte le cose sicuramente state impigrendovi quindi non state combinando niente la lezione di oggi è come scopo quello principale di farvi muovere le gambe quindi di cercare di farvi fare un allenamento per la parte bassa dai piedi le caviglie le polpacce ginocchia cosce naturalmente glutei che è la cosa che tutti amiamo di più noi femmine abbiamo questa fissa per i glutei anche se devo dire che li sovrastiniamo i uomini guardano ben altro che i glutei solamente di solito vanno più sul contenuto interno dobbiamo perdere questa battuta va e quindi quello che volevo dirvi è che grazie al bastone però oltre al lavoro che facciamo per le gambe assolutamente possiamo anche fare tanti lavori di mobilizzazione delle spalle e delle braccia quindi approfitteremo dell'attrezzo non solo per far lavorare le gambe ma anche per far lavorare le spalle e le braccia e faremo un piccolo test adesso ci mettiamo in piedi e andiamo a sentire bene gli accoggi prendiamo il bastone proprio proprio all'estremità quindi alla fine del bastone una mano a destra una mano a sinistra e andando a sollevare le braccia andiamo a vedere senza fare niente di più non forziamo quello che vedremo alla fine della lezione fino a dove le nostre il nostro bastone tendenzialmente era arrivato magari qualcuno un pochino più sulla testa qualcuno ma io non sto forzando perché se forzassi sono sicura potrei andare più dietro ma non voglio forzare quindi in una maniera diciamo molto easy del nostro movimento quello prendiamo un pochino più stretto nella stessa linea delle spalle e andando ad ispirare solleviamo le braccia e vediamo fino a dove riusciamo a salire forse questo è un pochino più rialto rispetto all'altro riabbassiamo le braccia io tutte queste cose le dico anche per quelli che poi se lo vanno a rivedere registrato che sono anche tanti quindi ascoltiamo adesso andiamo a salire le braccia più o meno medio e quindi abbiamo le nostre sensazioni a livello delle spalle e poi riabbassiamo le braccia tranquillamente questi piccoli test che potete fare per vedere la vostra capacità di mobilità delle spalle e delle braccia spesso con l'età questa va sempre più a diminuire si creano delle rigidità ricordatevi che più una non muoviamo il suo corpo più non muoviamo un altro più non muoviamo un ginocchio una spalle più questo diventerà sempre sempre più rigido quindi non è che siccome ci fa male non lo muoviamo dobbiamo cercare di muoverlo naturalmente andando dal medico e cercando di capire le cause di questo dolore ma molte volte semplicemente un po di artrosi un po di blocchi che abbiamo generali quindi adesso non ho visto bene ancora che ore sono è ora di cominciare prendiamo il nostro bastone in un'attertura media diciamo né troppo largo né troppo stretto almeno diciamo quasi la linea delle nostre spalle e cominciamo a fare dei movimenti di arrotondamento quindi mobilizziamo le spalle lasciamo che la testa e il collo si muovano per conto loro quindi senza bloccarli e ricordatevi sempre di non bloccare la mascella di non stringere i denti di tenere la bocca leggermente succhiusa andiamo adesso a fare questo movimento e andiamo ad accentuarlo andando a sollevarci in punta di piedi quando cominciamo la nostra rotazione e quindi inspiriamo ed espiriamo inspiriamo ed espiriamo inspiriamo ed espiriamo inspiriamo ed espiriamo accentuiamo adesso il movimento con la sollevamento in punta e la flessione degli avambracci portando l'asta sotto la linea della gola inspirando ed espirando andremo a fare una lezione abbastanza semplice senza troppi particolari variazioni in modo che sia semplice ma al stesso tempo efficace e continuiamo a sollevare sotto la linea della gola e adesso le braccia invece partono su tese e si scende con dolcezza rallentando il movimento inspirando ed espirando solleviamo e riscendiamo inspiriamo ed espiriamo inspiriamo ed espiriamo saliamo e riscendiamo alla prossima restiamo qua manteniamo la nostra posizione cerchiamo di sollevare un pochino di più le braccia ed espirando li planiamo a terra inspiriamo solleviamo di più le braccia ed espirando riscendiamo giù inspiriamo solleviamo di più le braccia ed espiriamo facciamo un'ultima volta inspiriamo solleviamo di più le braccia ed espirando scendiamo giù e adesso lo prendiamo alle estremità e da questa posizione facciamo andare in oscillazione lungo la linea del fianco l'asta da una parte all'altra quindi una spalla sale su e l'altra spinge giù non forzate i movimenti e lasciate che sia un movimento proprio morbido flestuoso leggero inspirando ed espirando sia da destra che da sinistra andando ad oscillare da un lato all'altro fate proprio in modo che il movimento delle braccia morbido senza irrigidire senza bloccare andiamo adesso fermarci in alto e da questa posizione solleviamo sopra la linea della testa e il nostro movimento diventa un pochino diverso quindi andiamo da sopra a sotto e andiamo continuiamo a creare questi movimenti di mobilitazione delle spalle da una parte all'altra ne facciamo ancora due poi ci fermiamo qua al centro una volta che siamo qua al centro andiamo a portare il gomito e spalla sulla stessa linea guardiamo nella parte più lunga del bastone ritorniamo al centro e cambiamo lato e la testa ruota quindi il viso ruota verso la linea dal braccio più lungo quindi andiamo qua e lo facciamo ancora un paio di volte ritorniamo se sentite dolori non forzate i movimenti lo facciamo un'ultima volta e ci torniamo al centro e da qua abbassiamo le braccia e andiamo a creare delle diagonali ok davanti alla linea del nostro corpo preciso con le braccia tese mi metto un pochino più qua a volte qualcuno con le braccia piegate allungate bene le braccia in modo tale da sentire bene tutto il movimento diciamo quasi a mulinello delle nostre braccia ci fermiamo qua abbassiamo le braccia e divarichiamo le gambe le portiamo più larghe almeno più grande del nostro bacino prendiamo il nostro bastone con i palmi delle mani quindi infilate praticamente la mano sulla parte esterna e da questa posizione qui andate a fare delle semplici oscillazioni e facciamo in modo anche di oscillare sulla punta del piede attenzione perché adesso ruotiamo grande e solleviamo le braccia e poi da quest'altra parte e solleviamo le braccia ispirando e ispirando dobbiamo anche ruotare il bacino l'anca la cabiglia e il piede inspiriamo ed espiriamo quindi ruoto e ritorno ruoto e ritorno sopra la linea della testa di fronte ai vostri occhi ok un'ultima volta e ci fermiamo qua da questa posizione spostiamo il bastone e lo mettiamo dietro alla testa dei glutei quindi lo mettiamo qui palmi delle mani contro l'asta gambe divaricate e andiamo a mobilizzare le spalle quindi non muoviamo nient'altro se non le spalle e le scappole non muoviamo la pancia non muoviamo la schiena portiamo le spalle in avanti e le spalle indietro le spalle in avanti e in avanti manteniamo adesso il patto ben aperto e da questa posizione bloccando il bastone alla testa dei glutei inspiriamo e poi espirandoci portiamo indietro se necessario piegate un po' le ginocchia cercando di portare la schiena dritta in piano inspirandovi riportate verso l'alto espirando riportate verso il basso inspirando in alto io sto piegando un po' le ginocchia non sforzate lasciate per adesso ancora che i movimenti siano morbidi senza esasperarne le tensioni ok andiamo ad ispirare ad ispirare ad ispirare e ad ispirare mantenendoci qua teniamo le braccia lontane facciamo delle piccole spinte 8 7 6 5 4 3 2 1 e stop adesso da qui chiudete un pochino le gambe quindi portate le larghe almeno quanto il vostro bacino da questa posizione qua mantenete il vostro bastone flettete le ginocchia lasciate che tutto il peso vada sull'addome sollevate le braccia e lasciate che la testa scenda verso la terra mantenendo le braccia lunghe così cercate di poggiare la pancia sulle cosce poi da qui piano piano scendete giù con il bastone portate il bastone davanti alle gambe davanti ai piedi lo dovete vedere srotolando la colonna riportatevi verso l'alto e utilizziamo adesso il nostro bastone come una sorta di mattarello per i muscoli delle cosce andando però in piegamento quindi portiamo qua il bastone e scendiamo e andiamo a portare il gluteo indietro e massaggiamo quindi cerchiamo di sentire proprio questo mattarello che è quasi un mattarello vero che ci massaggia le cosce sia in salita che in discesa quindi io me lo sto spingendo quindi proprio sento la pelle quindi non è leggero leggero vado proprio a sentire degli appoggi e devo stare attento a chiudere le ginocchia quindi non avvicinarle tra di loro mantengo la posizione qui sollevo le braccia e salgo verso l'alto riabbasso riscendo davanti massaggio inspirando salgo riporto davanti al petto scendo davanti all'addome scendo e riporto in alto e ancora abbasso le braccia sfioro l'addome vado sulle cosce salgo e ancora una volta riporto questo movimento quasi a creare un'onda protonda rimassaggio le gambe mando bene il bacino indietro attenzione a non creare delle golpe e vado a massaggiare le gambe ancora una volta spingo e ritorno spingo e ritorno e mantengo la mia posizione qua attivo bene l'appoggio dell'asta all'altezza della zona pubica ok piego leggermente le ginocchia e vado a mobilizzare un trattolo ovale sentendo questa pressione sto schiacciando bene con i palmi delle mani vado a sentire tutta la mobilità nella zona sacrale nella zona normale creando queste piccole onde quindi ispirando e ispirando fuori l'aria anche il big team fuori l'aria e ritorno fuori l'aria e ritorno vado a sollevarle braccia adesso parto alla testa della zona del petto lo prendo un pochino più comodo e più largo e creo un pochino più di intensità a livello dei piegamenti quindi gambe, l'aria, un pochino di più delle gambe delle vostre cosce, del vostro bacino questa volta quindi le cosce le vogliamo un po' e andiamo a piegarci verso il basso quindi ci siamo in questa posizione seduta manteniamo quindi la nostra colonna qua quello che dobbiamo fare attenzione è di non creare gobbe soprattutto nella lombare quindi attiviamo bene la nostra curva e spingiamo in alto quindi ispirando ed espirando in questo movimento un pochino più di squat no? tipico della sala pesi di tutto e quanto quello che riguarda il fitness andiamo, ispiriamo, ispiriamo, scendo, mantengo la mia posizione qua, attivo, faccio tre piccoli molleggi uno, due, tre e le braccia in alto, basso, piego, piego, piego e spiro su uno, due, tre e vado in alto, scendo, 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 vado in alto uno, due, tre, attenzione che le giro il charsino allineate bene con il piede su uno, due, tre, ancora due volte così uno, due, tre, ancora l'ultimo così alla prossima resto qui le mie braccia si portano in avanti stabilizzo la mia posizione restiamo qua, portando bene il peso su tutto il piede io mi giro stato tranquilli là, non ho problema col bastone quello che vorrei ottenere è mantenere l'allineamento nell'appoggio della testa, dell'accento delle scapole e della zona sacrale sto in isometria, mantengo la mia posizione riportiamo il nostro bastone qua davanti riportatevi verso l'alto e sono sicura che un po' di gambe le abbiamo sentite e partendo con le braccia su, riallineiamo le gambe sentiamo bene gli appoggi su tutti i due piedi e faremo un lavoro in alternanza andando a mantenere il bastone solleveremo una gamba espirando, non dobbiamo toccare arrivano alla stessa linea delle spalle e ritorniamo su espiro, chiudo, inspiro, salvo espiro, inspiro alterno quindi il movimento fuori l'alio, salvo fuori l'alio, salvo soffio, inspiro questo è come fare gli addominali in piedi praticamente soffio, inspiro 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 e resto qua portandomi in questa posizione se è necessario appoggio un attimino il piedino ristabilizzo e riconcretizzo la posizione visto che abbiamo il bastone perché non approfittano magari non ho perduto l'equilibrio e quindi andiamo a posizionarlo sul lato della gamba flessa portandoci in questa posizione andiamo a sentire bene che possiamo tranquillamente abbassare la gamba ok? puntiamo il piede un pochino più in là mi metto di là per farvelo vedere faccio questa cosa uno, due, tre sulla gamba tocco, tocco, tocco su uno, due, tre su tocco, tocco, tocco su uno, due, tre su avanzi leggermente un pochino più del vostro piede ok? one, two, three su uno, due, tre su uno, due, tre su uno, due, tre su tocco, tocco, tocco su tocco, tocco, tocco su mantenendo la mia gamba in alto adesso mi sposto dietro mi giro per farvelo vedere quindi leggermente indietro e farò questo ok? vado su con il ginocchio e poi vado indietro e vado su e vado indietro ma deve essere un movimento piccolo non sto inclinando tutto devo cercare di sentire la contrazione a livello del gluteo il busto è leggermente inclinato ma non sono piegati in avanti e sento il movimento soprattutto nella zona glutea se prima abbiamo fatto la parte interiore della coscia adesso stiamo facendo la parte posteriore femorali e glutei mantengo la mia posizione qui tengo bene l'attivazione poggio la luce alla terra porto il bastone qua davanti a me nella fase di inspiro allungo la colonna allungo le braccia sollevo leggermente e poi riscendo espirando inspiro mi allungo questo è come fare l'esercizio crono a terra ma lo stiamo facendo su in piedi inspirando siamo leggermente flessi in avanti se necessario pieghiamo il tuo ginocchio d'appoggio inspirando espirando inspirando espirando inspiro espiro inspiro espiro mantengo la mia posizione su porto il bastone ok sul braccio opposto alla gamba sollevata mantengo il corpo proteso mi allineo aiutando il bastone attivando l'alluce lontano spingendo bene il braccio ancora mentre la gamba sento stanca e quella che è ferma ritorno piano piano in posizione e mi sollevo mi appoggio la gamba giù ok perfetto bravissimo allora adesso da qui poi andremo a fare l'altra gamba facciamo un po' di movimenti con le punte alternando stacco e riattacco stacco e riattacco stacco e riattacco 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 e mi posiziono per fare l'esercizio sulla gamba opposta me lo faccio un pochino di lato poi dopo mi giro ok poi abbiamo fatto questo primo movimento sollevando il ginocchio facciamo tre tocchi 1,2,3 sulla gamba 1,2,3 e spesso il bastone voi mettete la dove vi viene meglio ok tocco 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 soffio 1,2,3 su 1,2,3 su 1,2,3 su tocco tocco solleva 1,2,3 su 1,2,3 su 1,2,3 solleva 1,2,3 su 1,2,3 l'ultima volta 1,2,3 stop e qui andiamo a creare quel movimento che abbiamo fatto fare prima attivazione del gluteo corpo leggermente proteso se volete la gamba d'appoggio leggermente flessa ma non ingobbitevi restate con il petto in apertura portiamo il ginocchio in avanti e dietro ispirando ascoltate la contrazione sul gluteo io vi consiglio anche di mettere la mano sentite il muscolo che si contrae salgo spingo salgo ed espiro inspiro non muoviamo il busto facciamo che tutto nasca dal femore dall'anca e dal gluteo non dalla schiena ancora quindi spingo ritorno soffio inspiro soffio inspiro e mantengo la gamba resta lì con la luce alla terra prendo il mio bastone poggio leggermente fletto leggermente la gamba ed appoggio inspirando mi allungo le braccia spingono verso il soffitto il piede verso la terra e ripoggio la terra inspirando ed espirando inspiro espiro inspiro espiro fissate un punto davanti a voi così avete un riferimento ok inspiro espiro inspiro espiro inspiro espiro e mantieni la tua posizione da qua potete aiutarvi con il bastone portare il corpo in posizione orizzontale però tendervi mantenere l'attivazione del piede alla terra una linea se possibile dal piede alla testa quello che può essere anche qualcuno può stare solo qua ma provateci vedete quello che riuscite a fare e poi piano piano dolcemente ritorniamo giù e credo che le gambe stiamo cominciando a sentirle abbastanza attive mettetevi con le gambe ben divaricate adesso ok da qui quindi abbiamo una bella posizione di apertura andiamo semplicemente a prendere il nostro bastone all'estremità non troppo largo eh e partiamo da qua e solleviamo le braccia scendiamo allargando le ginocchia portando il petto il bastone ed espirando e li portiamo inspirando ed espirando molto molto semplice sono semplicemente dei piegamenti sulle gambe con le gambe leggermente più di vari campi adesso tenetevi nella posizione cercate di distribuire il peso bene sulle dita del piede sul tallone tentiamo a sforgervi in avanti ma neanche a cadere indietro e quindi mantenendo la vostra posizione col bastone in allineamento fate un attimo questo movimento quindi andiamo sempre dalla stessa parte sempre dalla stessa parte sollevo ritorno sollevo ritorno colleghiamo mentalmente adesso la mano che va in basso con la gamba più vicina ok adesso attenzione perché noi facciamo questo movimento e andiamo a collegarli veramente ok espirando e cercano proprio di tocarsi espirando inspirando quindi fuori e torno fuori e torno fuori e torno fuori torno fuori torno soffia inspira soffia inspira attenzione che non si muovono le spalle ma la gamba e la rotazione del braccio fuori inspira fuori oh 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 e perde anche l'equilibrio amesso questo è questo trappettino scivolosissimo portiamoci su ruotiamo le spalle concentriamoci adesso sul movimento opposto quindi torniamo qua e andiamo dalla parte opposta abbiamo le gambe flesse il bastone in verticale lo riportiamo in orizzontale verticale orizzontale non copritevi la faccia mettete un pochino giù il bastone dentro fuori dentro fuori dentro attenzione colleghiamo i due punti spalle mantengo la colonna vado a cercare uno poggio piano quando ne appoggiate la gamba lentamente soffia inspira soffia inspira soffia inspira soffia inspira senza fretta calma soffia inspira soffia inspira soffia inspira soffia benissimo riportatevi qua con il bastone appoggiate la terra sollevatemi mettetevi in punta di piedi avete il bastone proprio vicino a voi allargate le ginocchia ritornate quindi scendiamo non vi faccio fare pause ok andiamo proprio a stressare in resistenza questi muscoli ok piuttosto che fare delle pause non stiamo lavorando con carini quindi possiamo anche far capire i muscoli che devono attivarsi ma tengo la mia posizione di attivazione sto qui abbasso i talloni stacco i talloni scendo stacco scendo stacco scendo stacco scendo stacco scendo stacco non appendetevi troppo è solo per non perdere l'equilibrio ok mantengo la mia posizione di attivazione e porto su il mio bastone allungo le braccia distendo stacco della stella e poi scendo piano piano ok abitiamo le gambe allora e come non può mancare un esercizio veramente importante come l'affondo in lavoro per le gambe cioè non possiamo farne a meno e con lo squat è il principe degli esercizi che poi vanno proprio a creare la forma a dare una forma alla gambe e a tonificarla nel vero senso della parola anche perché ripetono un gesto che noi facciamo per esempio quando saliamo su qualcosa quando ci appartichiamo e quando abbiamo rigidità di anca non possiamo fare quell'esercizio non possiamo fare quel movimento nella vita quotidiana e diventiamo sempre più bloccati come io mi metto di lato per farvelo vedere quindi ci portiamo potete farlo fuori o dentro il tappetino la vostra scelta fate un bel passo avanti io vado con la mano destra e metto il bastone sulla mano sinistra allineato con il piede destro quindi il piede e il bastone sono sulla stessa linea le spalle dritte l'attivazione piegono un pochino e qui prima però gioco un pochettino con il pelvic tilt quello che abbiamo fatto prima con il bastone e sento un po' come se fosse una codina che va dentro e va fuori quindi dentro e fuori dentro e fuori dentro e fuori mantengo questa mia codina non sollevata no? ma allineata verso la terra quindi crea una linea dalla cima della testa al coccige continuo a mantenere il bastone se posso e ce la faccio tolgo il bastone mantengo l'allineamento vado nell'affondo quindi un pochino più profondo sollevando le braccia mantenendo l'allineamento del ginocchio e del tallone e poi ritorno espirando quindi inspirando ed espirando cerco di scendere quanto è possibile fissate un punto davanti a voi non guardate sotto sopra semplicemente cercate di stare bene in equilibrio inspirando espirando 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 mantenete la vostra posizione di affondo se non ce la fate tornate con la gamba su portatevi il vostro bastone come se avessimo un bebe in braccio puntate le dita mantenete la tua intorsione verso la gamba fresca che è la destra quindi tornate al centro espirando se non ce la fate tiratevi su ma continuate il movimento con le braccia ok? continuo vado a ruotare rientro ruoto rientro espiro inspiro espiro inspiro espiro inspiro espiro da questa posizione corpo proteggo in avanti gamba posteriore tesa vedete che il ginocchio è solo quello davanti prendo il mio bastoncino porto i palmi delle mani rivolte verso lato ruoto le spalle il collo lungo mantenendo qui bene la posizione faccio delle piccole spinte verso l'alto 8 7 6 5 4 3 2 1 e stop recupero la posizione e chiudo benissimo naturalmente se voi adesso andate a sentire le vostre sensazioni vi accorgerebbe che un piede lo sentite in un modo una gamba la sentite in un altro di sicuro al 100% ok? quindi sentite che il vostro corpo anche a livello dell'anca provate a fare dei movimenti con le antiche accorgenti che è una più rigida dell'altra e adesso ci mettiamo con la gamba opposta naturalmente e quindi andiamo con il col piede sinistro ok? qui abbiamo cambiato lato abbiamo messo il bastone davanti alla linea del piede abbiamo preso il nostro allineamento mantenendoci così andiamo a sentire cosa abbiamo fatto prima abbiamo fatto i movimenti del pelvic tilt quindi la sensibilizzazione a livello del bacino e dei muscoli qua di l'opsoas quindi vado in pelvic tilt mobilizzo 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 mantenendo l'attivazione quindi il corpo in allineamento col testa col cigeo sulla stessa linea prendo il bastone con entrambi le mani e provo a scendere nel piegamento rispettando l'allineamento il ginocchio e il ritorno quindi naturalmente abbiamo sempre una più brava dell'altra una più forte una più debole e quindi avremo delle difficoltà più da una parte che dall'altra non vi preoccupate ultimato inspiro e respiro inspiro e respiro scendo quanto posso scendo ritorno scendo ritorno scendo mantendo la posizione sento il peso distribuito nella gamba anteriore e nella gamba posteriore prendo il bastoncino l'ho detto prima se non riuscite venite su e ruotate solamente con le braccia quindi andiamo a ruotare e ritornare espirare inspirare espira inspira espira inspira espira inspira quindi ruota leggermente e torna espira inspira espira e ritorni al centro quindi lasci scivolare il bastone corpo proteso la gamba posteriore si è drizzata il tallone non spinge alla terra semplicemente è tutta la gamba lunga l'appoggio anteriore prendo il bastone porto dietro schiena parmi delle mani verso l'alto apro bene il petto ruota le spalle scapole vicine collo proteso lunga la testa e faccio delle piccole spiglie 8 7 6 5 4 3 2 1 e stop ok bravissimi allora naturalmente tutte queste sensazioni quando vi sentite stanti o per qualcuno diventa un pochino troppo fermate poi vi viene fatto male quindi ci facciamo male quindi piano piano allora anche perché queste vacanze fanno danno poi uno perde proprio il senso anzi voi siete troppo bravi che mi seguite non ho perso un po' la sensazione dell'orario allora facciamo adesso un ultimo esercizio i piedi così dove andiamo a lavorare sulla parte laterale del corpo ancora non l'abbiamo fatto facciamo una semplice elevazione della braccia e anche della gamba ok e ritorniamo per adesso semplice semplice inspirando lo facciamo all'inspiro si può fare anche in espiro adesso per noi inspiro fuori l'aria quando scendete con le braccia delicati inspiro espiro inspiro espiro inspiro espiro inspiro espiro alla prossima restiamo su poggiate la gamba tranquillamente ok le braccia sono in alto creiamo un'inclinazione laterale solleviamo leggermente la gamba facciamo questa cosa tutto insieme up e là soffio ed inspiro soffio ed inspiro piccolino eh restate sulla linea della testa cercate di sentire il fianco che si chiude soffio inspira soffio inspira soffio inspira soffio inspira soffio inspira soffia poggiati tranquillamente scarica il peso sulla gamba d'appoggio solleva la gamba di terra quello che fa mantieni nella posizione della stella sbilanciando il corpo attento non ruotare avanti e a mantieni più aperto fai le piccole spinte 8 7 6 5 4 3 2 1 e stop ottimo ok adesso ci divertiamo dall'altra parte quindi naturalmente abbiamo l'altro lato solleviamo le braccia solleviamo la gamba e ritorniamo qua inspirando ed espira salgo ritorno salgo ritorno inspiro espiro inspiro espiro su e giù su e giù su e giù e mantengo la mia gamba ok andiamo a chiudere questo lato del fianco quindi sollevo la gamba inclino torno so inspiro so riappoggiate il piede tranquillamente da so inspiro so inspiro so inspiro so inspiro so inspiro so inspiro so siamo l'ultimo ok e da qui poggiate il piede portate il corpo esattamente dalla parte opposta attenzione che la testa è al centro della linea delle braccia stacchiamo la gamba manteniamo la posizione della stella attivando bene tutto il nostro allungamento e poi ritorniamo piano piano qua ruotiamo ruotiamo le spalle e ci adoperiamo adesso per andare a mettere il nostro asciugamano perché adesso andremo a lavorare alla terra quindi con calma prendiamo asciugamano su tappettino quant'altro iniziamo diciamo davanti a noi deve esserci tutto il tappeto adesso io mi metto da quest'altro lato giusto perché mi sembra che si bella meglio dal punto di vista della luce e può essere indifferente voi scegliete la parte che potete anche girare il tappetino di fronte che vi vedete meglio o mettetevi un po' di sbiecco questo dipende da come riuscite a vederla meglio la lezione ok? portandovi così con le gambe in allineamento in appoggio sul tappetino flettete le ginocchia piano piano andate proprio in ginocchio andate a spingere nella posizione del bambino lasciate che il bastone sia lontano da qui allargate un pochino le ginocchia non tenetele troppo strette andate a ravvicinare il vostro bastone e siete in ginocchio se avete necessità di un sostegno migliore sotto le ginocchia prendete un asciugamano un cuscino adesso dipende dalle vostre ginocchia tendenza a minute no? da questa posizione vi sollevate su andate in inspiro allungandovi verso l'alto e espirando flori aria frenate la discesa inspirandovi sollevate espirando scendete ispirandovi sollevate e ispirando scendete ispirando mi sollevo e ispirando ridiscendo ispirando mi sollevo e ispirando ridiscendo mantengo la mia posizione su ok e da qua questo bastone per un attimo andremo a metterci in quadrupedia dobbiamo cercare il centro della nostra zona lombare faremo un piccolo giochino di equilibrio ok allora più o meno al centro poi andate a puntare le dita dei piedi alla terra mettetevi in quadrupedia i palmi delle mani ben distribuiti e andiamo a fare un attimino la posizione da lavorare solo sul baby tilt no? mobilizzando solo il tratto lombare senza far cadere il bastone quindi andiamo a percepire questa mobilizzazione del tratto lombare attivando bene le braccia alla terra cercando di sentire che il vostro bacino adesso sentite un po' deve essere piccolino proprio andate senza far cadere il bastone se fossimo in palestra avrei già sentito un sacco di rumori brutti di bastoni che cadono per terra mantenendovi così bene bene adesso con un pochino di sforzo in più andate a sentire bene le dita dei piedi destro che spingono alla terra e staccate leggermente il ginocchio destro e poi il ginocchio sinistro mi tenete con tutti e due le ginocchia staccate mantenendoli in questa posizione riscendete giù piano piano e quindi andiamo a fare questa attivazione addome attivo espiro stacco le ginocchia resto sospeso senza far cadere il bastone riappoggio le ginocchia espiro stacco le ginocchia e mantengo sospeso inspiro lo facciamo un'ultima volta e vi chiedo un piccolo sforzo in più adesso da questa attivazione con i piedi alla terra devo staccare leggermente il braccio destro veloce sinistro destro sinistro destro sinistro destro è caduto a me è caduto era solo un giochino di sforzo ok quindi questo giochino qua è giusto e il mio penne si è anche spaventato è giusto per farvi capire quanto è difficile poi gestire questa cosa mantenendo il bacino fermo se noi togliamo il bastone perché se no non so insomma togliamo il bastone diciamo senza andiamo a riposizionarci come eravamo prima con le genate staccate una sorta di plank facilitato e andiamo tocco 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 si può fare no? non è così drastico però se io porto torno giù se io porto completamente l'attenzione a cosa sta succedendo alla schiena è completamente diverso quindi la difficoltà si nota fortemente allora prendiamo il bastone ci giriamo adesso andiamo a ruotare andiamo a sederci e andiamo a scivolare bene in basso in modo tale da poterci poi sdragliare potete anche mettere un cuscino sull'età e in per la testa partiamo con le gambe flesse portiamo il bastone davanti a noi i piedi poggiano la terra anche la pianta del piede poggia e da questa posizione andiamo a sdragliare la colonna quindi inspiriamo e poi vertebra per vertebra espirando ci scegli portiamo verso il basso quindi ci appoggiamo completamente giù se avete un cuscino lo preferisco così non vi strezzate il collo ok mantenendovi in questa posizione sollevate le vostre braccia e provate a sentire questa sensazione di scollamento delle vertebre dalla terra delle vertebre delle scapole c'è una mobilizzazione delle vertebre delle scapole che salgono su scendono giù salgono su scendono giù mantenendole più o meno attive al suolo espirando portate l'asta verso la linea delle cosce inspirando dietro fuori l'aria in avanti inspiro dietro fuori l'aria quando andate verso la pancia fuori l'aria verso le cosce e senza forzare dietro dove arrivate non c'è uno non dovete arrivare al pavimento fatelo con comodo inspiro espiro inspiro espiro ora partite con le braccia più o meno a metà sollevate la gamba destra andate ad avvicinare l'asta vedete che io la sto passando passare sulla caviglia sfiorandola l'alice punta andiamo ad inspirare allungando completamente la gamba la gamba all'altra gamba ben poggiata la terra ed espirando riavviciniamo quindi inspiro allungo espiro avvicino inspiro espiro fate quello che potete fare con le braccia l'abbiamo cercata di distenderla tutta il più possibile alla terra inspiro espiro inspiro espiro inspiro espiro inspiro espiro inspiro espiro inspiro ed espiro adesso da questa posizione la gamba resta lunga ben bene le braccia sono là ok e la gamba sale tesa ora e riscende attenzione perché adesso andiamo ad espirare quando si avvicinano e risalvano quindi soffio inspiro soffio inspiro soffio inspiro soffio inspiro e sto puntando l'alluce al soffitto soffio inspiro soffio inspiro soffio inspiro la gamba resta su le braccia sono su da questa posizione se posso io sollevo la testa altrimenti la lascio giù e faccio una piccola spinta in avanti piccole piccole spinta sulla linea della gamba soffio 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 continuo a mantenere qua distendo la gamba che stava appoggiata e tesa mantengo le braccia su e sforbiciocco e prego le gambe 1 2 3 4 inspiro inspiro soffio soffio inspiro inspiro soffio soffio inspiro inspiro soffio soffio inspiro inspiro fanno a destra il bastone la sinistra e alterniamo il movimento io sono un po' troppo vicino a questo mobile ma voi tranquillamente lasciate scivolare e dondolare tutto quanto il vostro bacino ok scaricate da un lato all'altro mantenetevi al centro riportate bene tutti i piedi ben appoggio adesso andiamo ad eseguire tutto con la gamba opposta quindi da qui la gamba che si muoveva sarà ferma ben appoggiata da terra il bastone sulla linea della caviglia inspiriamo allunghiamo soffiamo avviciniamo inspiro e soffio inspiro soffio inspiro espiro inspiro espiro inspiro espiro inspiro soffio inspiro espiro inspiro espiro inspiro soffio la gamba si stende verso l'alto il bastone si avvicina alla caviglia la gamba scende le braccia si allungano soffia inspira soffia inspira soffia inspira soffia inspira allungati bene bella teso le braccia fino a dove restano arrivare e soffia inspira soffia inspira e resta qui da questa posizione se ce la fai sollevi la testa e il busto altrimenti resti appoggiata al cuscino fai delle piccole spinte verso l'alto 8 6 6 5 4 3 2 e 1 tieni le braccia all'interno del petto distendere la gamba di terra se ce la fai tieni la testa sollevata sforbiciare inspira 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 soffio soffio inspira soffio soffio inspira soffio soffio inspira e mi fermo così ginocchio al petto metto il bastone sotto la linea delle gambe dondolo nella posizione praticamente sfrutto l'aiuto dell'asta per creare il rolling oppure se non c'è la voce con la schiena mi raccomando dondolato senza sollevarli più di tanto e adesso ci mettiamo a sedere mettendoci a sedere andiamo poi a togliere il nostro bastone da qua benissimo che ore sono che ho perso un po' i connotati temporali allora e andiamo ad eseguire un esercizio laterale cosa facciamo qui? ci mettiamo in fianco e io gioco questa parte adesso il cuscino può servire ma non può servire non è fondamentale e da qua andremo a manterci sul lato tenendo la gamba di sotto piegata bene in appoggio invece la gamba superiore la portiamo distesa ci mettiamo sul fianco e avete una posizione precisa tra l'alluce e il secondo dito andate a mettermi proprio il bastone qua ok? e praticamente voi dovete sentire che lo potete spingere allora avete ancora una sorta di attivazione a pressione ok? dovete tenere le dita strette mantenendo questa posizione qui il braccio teso il braccio teso la gamba tesa e create questa sorta di oscillazione di swing praticamente è come se voi con la mano andate a sentire questa possibilità di poterlo far oscillare attenzione naturalmente l'appoggio l'anca il vuoto nella parte sotto la spinta del bacino mantenendo il braccio teso create questa sorta di swing andando a far oscillare la gamba quindi espirando inspirando naturalmente sotto dobbiamo cercare di restare in appoggio e andiamo a mobilizzare così il nostro tratto dell'anca mantenendoci ancora qua prendiamo il nostro bastone invece lo mettiamo sopra lo teniamo con due dita e andiamo a disegnare dei piccoli movimenti circolari 1 2 3 4 5 spingendo bene col tarmello lontano 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 poi lo facciamo dall'altra parte 8 7 6 5 4 3 2 mantenendo bene l'allineamento ok così provate a togliere la manina lasciare il vostro bastoncino appoggiare la mano davanti al petto liberare la gamba di sotto tenere l'allineamento bene bene delle gambe spingendo bene con i tattori lontano e portando il braccio verso l'alto bianciando il nostro equilibrio 4 3 2 1 bravissimi eccetera andiamo dalla parte opposta naturalmente il doppio lato eccoci qua e andiamo a mettere un attimo spero abbiate la condizione attoreazione anche voi perché qua all'aperto non sarebbe la stessa cosa quindi andiamo a lettere la gamba di sotto a distenderci bene di là a scivolare a prendere bene la nostra posizione attivando lo spazio sotto il fianco l'anca che spinge il piede mettiamo un po' a martello e andiamo a bloccare il bastone con la parte antidea del piede il braccio è teso e creiamo questa sorta di effetto attenzione il bastone non è storto così è un po' giù in allineamento orizzontale ok e andiamo a creare questo allineamento quindi il braccio spinge la gamba ritorna ispirando 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 senza sollevare troppo la spalla mantengo la mia posizione qui prendo il bastone lo metto sopra la linea qua magari due dita giusto per non farlo cadere il tavone che spinge facciamo dei piccoli cerchi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 7 6 5 4 3 2 e 1 spingo bene lascio il bastoncino da metto il polpastreni davanti al patto libero la gamba di sotto tutte e due tengo bene il mio bastone mantengo sollevo il braccio e resto così in isometria per 8 tempi 4 3 2 1 e stop e scendo giù benissimo ok andiamo a chiudere la nostra lezione con un esercizio prono quindi a pancia in giù dove andiamo a sistemarci con le gambe non troppo larghe il nostro bastone parte dietro la zona sacrale ok i palpi delle mani rivolti verso l'alto quindi voi prendete il vostro bastoncino dovete cercare di capire questa dinamica prima di ogni cosa quindi cercate di avvicinarlo verso la schiena di spingerlo oltre i glutei di avvicinarlo di spingerlo oltre i glutei ispirando e ispirando ispirando e ispirando riposizioniamoci qua flettiamo le gambe e buttiamo i talloni verso i glutei ok così i piedini non così con le punte con i talloni e da qui andremo a creare questa dinamica spingendo contemporaneamente punte talloni sollevo bene lo sterno da terra collo lungo lo sguardo le punte dei piedi le braccia tese riscendendo cambio lato fletto le gambe e ritorno come sono partito è ispirando mi allungo guardo la terra allungo le braccia allungo le gambe ispirando mi appoggio cambio guancia ispirando mi allungo più bene ispirando torno alla terra ispirando mi allungo guardo la terra ispirando ruoto il viso ispirando e ispirando chiudo adesso lo faccio per l'ultima volta resto qui nella posizione attivo all'albo leggermente le gambe faccio delle piccole spinte lo sguardo al pavimento piccole spinte verso l'alto 8 6 5 4 3 2 1 e sto riscendo giù porto il mio bastone qua davanti al viso appoggio le mani sotto la mia delle spalle chiudo i gomiti ruoto le spalle punto il piede e ginocchio e mi aiuto e risalgo su e da qua vado proprio in child position quindi nella posizione del bambino separo le ginocchia il mio bastone sta qua e fa proprio l'effetto mattarello e quindi da questa posizione eseguo veramente proprio come se avessi un mattarello la pizza e vado a spingere espirando giù inspirando su espirando inspirando espiro inspiro mantengo completamente tutto in allungamento e spargo da qui recupero piano piano a posizione ruoto la colonna e salgo su bene allora adesso da qua come vi avevo detto all'inizio facciamo un attimino ci alziamo piano piano mettete il bastone appoggete una gamba appoggete l'altra quindi andiamo a sollevarci in piedi e andiamo a fare quel piccolo test che vi avevo detto all'inizio di mobilizzazione delle braccia perché comunque le braccia ne hanno tanto grosse quindi prendiamo prima largo 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 le gambe erano come erano prima andiamo a vedere se le nostre braccia dall'inizio della lezione facilmente sono più su e io noto che non devo fare forza per non essere più in alto abbasso le braccia abbasso le braccia chiudo le braccia quindi più strette e valido la mia mobilità adesso dopo che ho finito la lezione facilmente riesco ad andare quasi oltre la testa ognuno di voi poi ha le sue capacità lo prendiamo in una posizione media inspirando vediamo un attimo e sono sicura che le vostre braccia si muovono molto più morbida con meno rigidità adesso da qua andremo a fare un pochino di stracci ok ci aiutiamo col bastone facciamo uno straccio facile 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 oggi andiamo mi metto di lato voi mi potete guardare avanti avete aiutato col bastone perché molto spesso questo esercizio è complesso e andate a prendervi la caviglia se non riuscite a prendere la caviglia probabilmente un pantalone ce l'avete quindi avvicinate il tallone verso il gluteo quindi portando il ginocchio verso il basso da qua poi invece cercate di fare in modo che il tallone si allontani e quindi sentite tirare il braccio e la spalla molto probabilmente mantenete questo tipo di attivazione di spinto dal piede verso il basso sentite la spalla e il braccio poi andate con la gamba che stavate tienendola portate in avanti piegatevi leggermente ginocchio più o meno allineate il tallone sollevato potete stare così quello che dovete sentire è la parte posteriore della coscia quindi il polpaccio la tiglia ok il sollevato e portate la stessa gamba dietro qui però dovete poggiare il tallone dietro quindi dovete sentire tirate la gamba davanti dovete sentire che il polpaccio è attivo ok bene così dopo di che per fare lavoro sul piriforme andate a appoggiare metto un po' qui di lato e andate di appoggiare come se avessimo una sedia mantenendo il torace il petto in apertura dovremmo sentire qualcosa verso dietro sui glutei quindi è una seggiolina un pochino importante in modo da attivare bene questo si può fare benissimo nella sedia è facile poi vi portate su e andiamo a farlo dalla parte opposta quindi andiamo a prendere il ginocchio quindi prima cerchiamo di avvicinare il tallone al gluteo che è diverso da quello che andiamo a fare dopo poi invece facciamo in modo che il piede tiri il braccio quindi il tallone si allontana dal gluteo e sempre mi tira il braccio e la spalla dopodichè lascio andare la gamba in avanti fletto la gamba l'appoggio l'appoggio sul bastone quindi vado a percepire tutta la parte posteriore fino al tallone la zona tibiale il colpaccio dopodichè salgo faccio un bel passo indietro una sorta di affondo ma non è un affondo anche perché comunque il tallone è qualche giallo quando facciamo l'affondo lui è appoggiato dentro il colpaccio la parte posteriore l'attivazione della terra e poi come abbiamo fatto prima facciamo la seggiolina in questo modo qua allora mantenendo comunque sempre la zona della colonna mi raccomando attiva e poi il ritorno giù sciolgo un attimo il bastone lo possiamo anche appoggiare un attimo la terra andiamo a lavorare un attimo con la testa andiamo a inclinare il capo lasciamo che la spada scenda bene manteniamo qua e dobbiamo sentire percepire una parte l'altra del collo poi guardiamo un attimo in giù e abbiamo invece un altro tipo di attivazione sempre senza bloccare la bocca la mascella rilassata leggermente aperta la bocca che blocca tutti i muscoli del collo poi ritorno al centro e la faccio dall'altra parte quindi in maniera laterale ogni volta che fate uno sforzo ricordatevi di tenere la bocca socchiusa non stringete i denti non bloccate le mascelle che poi vi porta rigidità e dolore al collo poi guardiamo leggermente in basso guardiamo dentro dei piedi sentiamo naturalmente una sensazione diversa arriva dagli muscoli del collo torniamo al centro facciamo un altro bel respiro e posizioniamo attenti senza piegarci col busto quindi un po' avete presente un po' facciamolo così un attimo come ho fatto il tono questo movimento del collo spingo devo sentire i muscoli anteriore che i collo che si allungano che questo esercizio ci fa bene perché il cellulare ci fa perdere questo tipo di mobilità ritorniamo al centro e poi leggero come se guardassimo al giù un balcone senza schiacciare forte torniamo su rilassiamo le braccia e grazie ci veniamo giovedì pesetti quindi procuratevi pesetti finti veri baratti bottiglia potete trovare qualsiasi cosa anche dei batteri di parati o delle ananas di frutta sciroppata qualsiasi cosa di metallo o di vetro che poi scoppiano anche delle bottigliette piene di sabbia o d'acqua oppure se avete pesetti ancora meglio non superate il chilo perché poi troppo sono troppo pesanti mi raccomando ciao buona serata a presto ciao grazie ancora ciao